Ciao a tutti e ben tornati in un nuovo What It In A Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme delle ricette facilissime, sane e veloci. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi ho preparato uno smoothies con della frutta fresca, che è facilissima da fare e fa veramente bene. All'interno di un mixer mettiamo una banana congelata, se volete potete anche mettere una banana normale, non congelata, mezzo avocado, 40 g di spinaci freschi che fanno benissimo e 250 g di latte di mandorla non zuccherato. Potete sostituire con il latte vegetale che preferite o con latte normale. Frullo insieme tutti gli ingredienti, dopodiché vado a mettere il composto all'interno di una ciotolina e la vado a condire con altra frutta fresca come per esempio kiwi, mirtilli, fragole, una spolveratina di cocco e un po' di mandorle. E questa è stata la mia colazione. È una colazione, come potete vedere, sana, freschissima, quindi adatta a questo periodo e soprattutto energetica. Per pranzo ecco il mio piatto unico. Andrò a cuocere questa pasta di piselli, cioè 100% farina di legumi, quindi è ottima anche per chi magari è intollerante al glutine. E poi metterò a fianco del cavolfiore cotto al forno dei piselli. Parto dal cavolfiore, lo vado a cuocere, lo faccio raffreddare completamente. Dopodiché vado a mettere all'interno del cavolfiore un cucchiaio di olio d'oliva che mi aiuterà a far attaccare bene il pangrattato. Quindi pangrattato, qui vado molto a occhio insomma. Dopodiché ci metto una spolverata di prezzemolo tritato e vado a mettere il tutto su una teglia con carta forno e cuocio a 180 gradi per circa 20-25 minuti in quando diventa croccante e ben dorato. Nel frattempo, col cavolfiore in forno, vado a preparare anche il condimento per la pasta. Ho deciso di preparare un pesto di rucola. Metto all'interno di un mixer la rucola, una manciata di anacardi che potete sostituire con delle mandorle, vado a tritare e poi vado ad aggiungerci anche un cucchiaio di olio d'oliva. Verrà molto granuloso perché c'è poco olio. Se volete potete anche aggiungere altro olio, ma ve lo sconsiglio se siete a dieta. Vado ad aggiungere anche un po' di sale, un po' di pepe e se volete anche dell'aglio, se vi piace. A questo punto vado a mettere in una padella invece un po' di olio e un po' di cipolla per cuocere i miei piselli. Quindi utilizzo dei piselli surgelati che vado a coprire con un po' di acqua per farli giusto un po' cuocere. E quando sono cotti e la pasta poi sarà anche cotta, vado a condire la pasta con il pesto di rucola e la vado a servire con i miei piselli e con il cavolfiore cotto al forno. Per quanto riguarda lo snack, oggi faremo insieme un gelato alla fragola e alla ricotta. Cioè occorreranno veramente solamente due ingredienti ed è uno snack adatto anche ai più piccoli. È facilissimo da fare, vi occorreranno delle fragole congelate che andremo a mettere all'interno di un mixer insieme alla ricotta e se volete anche un cucchiaino di dolcificante, se per caso le fragole non sono molto dolci. Io utilizzerò lo sciroppo di agave. Potete sostituire la ricotta con lo yogurt greco. Frullate insieme tutti gli ingredienti, dopodiché mettete il composto all'interno di contenitori da gelato, quindi all'interno delle formine e le lasciate all'interno del freezer almeno un paio di ore. Dopodiché potete anche condire gelati con un po' di cioccolato fondente o immergerle totalmente nel cioccolato fondente. E questo è stato il mio snack. Adesso passiamo alla cena. Anche qui ho deciso di preparare un piatto unico con della pasta di legumi, sempre di lenticchie, zucchine, cotte in padella e un po' di petto di pollo. Allora, prima di tutto taglio le zucchine e le vado a cuocere sulla piastra, quindi senza olio. Nel frattempo metto a cuocere anche la pasta. Questa, come vi dicevo, è pasta di legumi, 100% legume e queste sono lenticchie. Nel frattempo che la pasta cuoce, vado a cuocere in un'altra padella anche due fettine di petto di pollo. Quando la pasta sarà cotta, vado a condire con dei pomodorini, conditi semplicemente con un filo di olio, un po' di sale e un po' di origano. E questa è stata la mia cena. Allora ragazze, come sempre, se questi video vi piacciono, lasciatemi tanti like, fatemelo sapere giù nei commenti, spero di avervi dato qualche spunto. Io vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!